Musica Incidente questa notte, domenica 4 febbraio, poco dopo mezzanotte, una Mitsubishi Space Star con a bordo 4 giovani è uscita di strada sulla strada provinciale 222 nei pressi della Rotonda di Uzzegna. La vettura, condotta da un trentenne di Rivarolo Canavese, con a bordo un trentenne di Quornier, un ventunenne di Rivarolo e un ventunenne di Olianico, proveniva da Castellamonte quando nella curva poco prima della Rotonda è uscita di strada, ribaltandosi e adagiandosi su un fianco sul prato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo e i carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea. Dopo aver messo in sicurezza la vettura, i vigili del fuoco e i volontari di Croce Rossa hanno estratto i ragazzi dall'auto, subito affidati alle cure dei sanitari, che dopo una prima medicazione li hanno portati all'ospedale. Non sono gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Grazie. 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 Grazie.